L'instabilità normativa in materia di spaccio e droga aggrava il nostro lavoro ma soprattutto non dà certezza sulla pena rendendola meno efficace. Parole della Presidente della Corte di Appello Margherita Cassano pubblicate qualche giorno fa sul Corriere Fiorentino. Cassano chiedeva pene certe e più severe. Parole che non sono piaciute al garante dei detenuti Franco Corleone che le ha interpretate come una richiesta di più carcere per i reati di droga, cosa contro la quale lui si è sempre battuto. Ma io sono preoccupato che sulla questione della politica delle droghe si ripercorra una via nefasta che è quella dell'emergenza. In questo caso credo che per Firenze si tratti di un'emergenza assolutamente inesistente. Ma quando anche ci fosse un problema di consumi e consumi giovanili va impostata una politica intelligente, non una politica di repressione. Il sovraffollamento nel carcere è determinato dalla presenza di oltre il 35% di persone che violano l'articolo 73, cioè detenzione piccolo spaccio. Assieme abbiamo una percentuale che sfiora il 30% di tossicodipendenti. Possiamo dire che almeno il 50% della detenzione in carcere è per fatti collegati alle droghe. Ora dire che non entra nessuno in carcere mi pare una cosa da sbellicarsi dalle risa. Le carceri sono piene di queste persone. Vogliamo riempire ancora di più? Cioè fare sì scoppiare una situazione ingovernabile. La soluzione, secondo Corleone, va ricercata in maniera complessa guardando alle cause dell'aumento di consumatori e trovando pene alternative, non certo aumentando le presenze in carcere. Di soluzione complessa avevano in realtà parlato anche i partecipanti al tavolo antispaccio in prefettura a partire dal prefetto Lega, ma a quel tavolo Corleone non era stato invitato.